E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in un unboxing Tanto che non ne facevamo semplicemente perché ho un po' di roba da aprire Semplicemente per spoilerarvi dei prossimi video Allora partiamo che spostiamo tutto qui da parte perché Allora, in realtà, io sono stato stupido perché Se avessi lasciato tutto nelle scatole con questo da reati Questo unboxing sarebbe sembrato enorme Ma ovviamente io, intelligente come se non ho detto No, eh, devo buttare tutto perché così Almeno si vede direttamente la scatola che magari è più carina Sì, il problema è che se io avessi fatto almeno la scatola Fatto le foto alla scatola quando erano fuori Con l'airbaglio di Tornado se potevo fare il green screen Però vabbè, andiamo avanti Ma prima di partire, sigla Vedi ragazzi, allora partiamo con una webcam E poi ora vi spiegherò il perché In pratica, un po' di tempo fa Mi è venuta la voglia di fare Boh, questa è finita Ah, ok C'è un libertino, va bene Mi è venuta la voglia di fare delle dirette Allora, guardatela qui, carina, eh Con il cavetto qua dietro, ok Questo dovrebbe essere full HD USB 2.0 Dovrebbe avere dei buoni microfoni Tutte le recensioni su Amazon buone Speriamo che vada bene Perché io ho una Microsoft Live Cam HD Che per carità non è buona Ma per la messa a fuoco è ottima Ma è lentissimo In pratica, continua a fare così come uno zoom avanti e indietro Quando cerca di mettere a fuoco Ed è di una lentezza impressionante Però, meno la qualità, immagine buona Questo dovrebbe essere più veloce Full HD, ciò che mi piace Che almeno sta su da sola Vabbè Lasciamola da parte Andiamo avanti Allora, vado ad aprire questo pacchetto Che è arrivato in una scatola enorme Ma in realtà era semplicemente questo Che erano Che solo, non erano Delle camere d'aria Per il mio monopattino Nilox Doc 8.5 Quindi dovrebbe essere da 8 pollici e mezzo Adesso vediamo, eh La camera d'aria almeno è giusta Come le hanno in... Sti cinesi come mettono via le robe In realtà, non perché mi servono, eh Sì, che è la grandezza giusta Non perché mi servono Ma semplicemente Semplicemente perché ho paura di bucare Io ho una paura tremenda di bucare Anche se puoi vedere Quei buoni copertoni che ci sono su Non bucherò mai Ma ho una paura tremenda Anche se ho fatto 800 km Non ho ancora bucato Io ho ugualmente ancora paura Di bucare Vi devo dire la verità Io prima di quest'estate Un giro di pneumatici Glielo voglio dare Tanto costano 10 euro l'uno Ho visto Anzi, su Amazon Spagna Perché in Spagna Sono proprio affiatati Di monopattini elettrici C'è proprio nient'altro Ho visto che Avevano dei monopattini Addirittura con le ruote tipo da Non da fuoristata Però un po' più con Siamo nei tasselli un po' più grandi E siccome tanto Il Nilox Doc 8.5 Può tenere delle ruote Fino da 10 pollici Non ci metto quali da 10 pollici Inutilmente Come fanno tanti con l'M365 Ma piuttosto Ci metto su Delle Come tassellate Tra virgolette Che magari potrebbe essere Più interessante Ora Questo qua Lo lasciamo alla fine Poi capirete perché Ho semplicemente dovuto riprendere Le pellicole Perché questa caccia Che c'è sull'Apple Watch Si sta rovinando Quindi l'ho dovuto Ricomprare Poi le cambierò Quando quella lì Si sarà Totalmente Rovinata Così ho arrivato Qui all'interno Non abbiamo il kit di installazione E quante 1 2 3 4 5 6 Hanno aumentato Da 4 Siamo bastate da 6 Quindi ho comprato la stessa cosa Lo stesso prodotto dell'altra volta Prima cosa hanno questo Che è riutilizzabile Infatti in pratica Voi appoggiate questo Sul tavolo Ci appiccicate sopra questo E poi con le istruzioni E il video Fate tutta la baracca Ma è diverso Il kit dell'altra volta Stessa marca Stessa roba È diverso Tra l'altro questo Me l'ha consigliato mio zio E poi io A mia volta L'ho consigliato ad altre persone Quindi questa azienda qui Praticamente Gli avevo portato Almeno 10 clienti Quindi Unico Me Se mi sentite Voglio almeno Il 10% Dei vostri ricavati Grazie Ora apriamo questo E poi dopo Apriremo quelli lì Perché uno non arriva neanche da Amazon Poi capirete perché Uno arriva da AliExpress Questo dovrebbe essere Un caricatore multiple Perché non ce la faccio più A caricare tutte le robe Quando registro un video Registro spesso Con due fotocamere Oggi no Perché l'altra fotocamera Era spenta Quindi registro E prendi l'iPhone E poi All'altra volta Solitamente registro Con la macchina fotografica E prendo anche la macchina fotografica E poi magari l'iPad Che devo caricare E poi magari il computer Alla fine mi servono 1000 USB E poi il power bank Per la ring light Quindi Ho preso questo robo Oh signor Mizzica Penso a tre tonnellate Che ha 4 USB E dovrebbe avere Qua sopra La Qualcomm Quick Charge 3.0 Speriamo che vada bene Vediamo cosa dicono Le istruzioni 20 Watt Ma io vorrei capire Come questo robo Carica la roba Perché Se il totale 20 Watt E una porta Me le fa uscire 15 L'altra praticamente Non fanno uscire niente E speriamo che Carichi velocemente Tutto ciò Vi farò sapere Quando farò il video I migliori gadget tech E ora due gadget Questo orologio Che arriva da Amazon E questo che arriva direttamente Da AliExpress Che tra l'altro Pure aperto Perché vi ho messo aperto Per controllare Che non fosse una truffa Infatti Bello l'Apple Watch Ma costa uno scatafasce di soldi Bello la Mi Band Ma non mi piace Volevo degli smartwatch Vedete belli grandi Delle alternative Apple Watch Molto più economiche Con Questo Un telefono smartwatch Questo qua Non ha neanche rilevatore Ma è proprio Un telefono da polso Mentre questo Dovrebbe avere anche Rilavamento Battito cardiaco Pressione Ossigenazione Saturimetro Cassa in metallo Doppio cinturino Dovrebbe avere pure L'applicazione Viso sedentarietà Quindi un po' di roba Vabbè Apriamo questo Anche se Vi informo Che l'ho già aperto Fino almeno fino qua Ok E qua Apriamo la scatola E all'interno Troviamo un bel patacone Ma ovviamente Questo è un vero e proprio Telefono da polso Però una cosa Io non l'ho acceso La porta di alimentazione È una Vabbè Il caricatore Lo vedremo C'è dentro Proviamo ad accenderlo Bene È morto Quindi Speriamo che non sia rotto La porta di alimentazione È una micro usb Adesso Mi faccio portare La mia assistente Un power bank Proviamo ad attaccarlo Sotto la corrente E vediamo Se parte Ecco qua Ecco perché Vi dico che A me serve sempre Un sacco di roba Power bank Sempre carico Un cavo molto lungo Comodo Lunghissimo Questo cavo Questi cinesi Qua dell'ostra Braccini corti Adesso Il problema È che Devo riuscire ad aprire Ma lo vedete Sto sportello Come cappero faccio Ad aprirlo Olla Lo attacchiamo Sotto carica Vabbè Non dà segni di vita Lo mettiamo qua da parte Intanto Andiamo avanti Con le altre robe Apriamo questo Che arriva direttamente Da Amazon Questo è sulla trentina Di euro Aspetta un secondo Non funziona Tutto ciò mi preoccupa Ma c'era scritto Infatti qua Si dovrebbe aprire il reto Per poter inserire Anche la sim Perché è pure 4G Questo logo Va qua Non sono stati stupidi Qui c'è L'enorme batteria Da 380 mAh Guardate qui Vedete Qua dietro c'è la batteria E voi all'interno Dovreste poter Tirarla fuori Dovreste poterla Tirare fuori Ah ok Ah proprio No Sapete che i cinesi Ci tengono la sicurezza Infatti Guardate qui Sotto la batteria Naturalmente Circuiti aperti Se ve lo avvicino Bene Vedete qua sotto Circuiti aperti Chiaramente Sicuro Però Una Si Mi sembra anche Cosa pieno Abbiamo un processore Che se riuscissi a leggere Da quant'è Un miracolo Che la mente Mediatek Già che è un Mediatek Non un Cangulin E la batteria È questa Che i contatti Vanno fatti aderire Qui sotto Vedete In pratica Qua dentro Voi inserite Non so se lo state vedendo Molto Ok E tra l'altro Ha anche la fotocamera Qui sopra Quindi è proprio interessante Ma non parte Non capisco Il perché Andiamo ad aprirlo Va bene E all'interno troviamo Un magnifico Smartwatch 4 Guida utente Vabbè Un alimentatore Proprio così Messo dentro così Vabbè Fatto sta Che Avviso Questo Ovviamente Messo così apposta Perché arriva da Amazon Wearhouse Così custava di meno Ah ok Sta acceso Che si sta accendendo Me ne vivo Questo alimentatore Tutti Ho visto Nelle recensioni Che è intelligente Perché Tranne il classico Caricatore Mettico No Questo qua Voi ce lo appiccicate qua Fate combaciare Qua dietro I due pin Click E va Quindi adesso Mettiamo in carica Pure questo Ok Pure questo È entrato in carica Poi A questo punto Possiamo scegliere A quanto pare Tra Un cinturino Nero Però La gomma È buona Oh Questo qua È di plastica Blu Ma che la gomma È molto Cioè Questo qua È di una buona Silicone Questo qua Invece è putido Mentre Cinturino dell'altro Devo dire Che era buono Prezzo di questo 25 euro Prezzo di questo Aliexpress 14 euro Però Sono degli ottimi Cinturini Cassa in metallo Tra l'altro Questo Interessante Dovrebbe anche Avere il saturimetro Vabbè Andiamo a leggere Un po' Le magnifiche Caratteristiche Di questo Schermo Colore TFT 1,30 pollici Bluetooth 4.0 Distante Vabbè Batteria Lito 150 mAh Durato in uso Due giorni circa Tempo In standby 10 giorni circa IP65 Quindi resistente All'acqua Sensore battito cardiaco Pressione nel sangue Assigeno nel sangue Calorie bruciate Conteggio Chilometri percorsi Sveglia Con vibrazione Avviso di chiamata Notifica messaggi Contatore di passi Monitoraggio del sonno Scatto remoto del selfie Interessante Avviso di sedentarietà Controllo Musica Sport Corsa Accorda Addominali Vabbè Vabbè È interessante Intanto andiamo a vedere Questo che si è acceso Tiriamo in qua Teniamo premuto Il famosissimo 257 Fitness Ah Proprio la classica Beh Bizzica È un android Un po' vecchio Allora facciamo così Facciamo un cambio In quadratura Così vi mostro Ok ragazzi Visto che noi siamo Professionali Stiamo raggiungendo 500 iscritti Tra l'altro Vi ringrazio Le iscrizioni Sono volate alle stelle Io prendo Un iphone 6 Lo appoggio Una scatola Di una roba Che ho imbozzato prima Per mostrarvi l'orologio Vabbè Almeno mette a fuoco Clicchiamo E come vedete È proprio Interfaccia android Pura Qui abbiamo Messaggi Contatti Non c'è dentro La batteria scarica Scatto remoto Impostazioni Abbiamo le impostazioni Di android Indietro Slip Beh abbiamo Un bel po' Di roba Devo dire Calcolatrice Vediamo se funziona Tra l'altro Il touch Prende bene Infatti Faccio 9x6 54x6 Giusto Va bene E gira bene Pure tra una schermata E l'altra E questo Dovrebbe pure Avere Cioè A whatsapp E se mettiamo la sim Possiamo ricevere I whatsapp Tra l'altro Anche twitter Ciò che mi spaventa Voglio vedere Questa cosa con twitter Vabbè Lo proverò A un browser Ovviamente Si basa tutto Sulla tecnologia Scusate Prima mi sono sbagliato Non 4g Ma 3g Fatto sta Che comunque Beh Già che il touch Prende bene Non clicca Cazzo Oppure facebook Poi voglio vedere Come girano ste app Però Cioè Per carità Per quello Che Va anche bene Abbiamo pure L'interfaccia Qui delle Chiamate Possiamo spegnerlo O entrare dentro Ma Adesso voglio vedere Cioè La killer feature Me l'hai fatta vedere Adesso vogliamo capire Come faccio ad uscire Da qui Ah ok Andiamo qui Prima c'era Macchina fotografica Ah Beh Beh è giusto Che è bianco Perché c'è il soffitto Quindi se io inquadro di là Vediamo La La No Forse è meglio fare così Ah che bello Siamo noi sotto Sopra Foto Ok Inserire memory card Fatto sta Che Funziona Addirittura La Fotocamera Qua possiamo ritornare Macchina fotografica Come vedete Se Guardate È bianco Se ci appoggio il suo pezzo Qua di plastica nero Va La qualità è quella che è Ma per spiare Va più che bene Quindi questo Lo stacchiamo dalla carica Quindi Lo proverò E vedremo E vedremo Come va Mentre Quanto più interessante A me è questo Che vorrei capire Come si accende Quattro pulsante tattile Quindi a quanto pare Se io clicco questo Bottone Vedete Qui dovrei Ecco Ciao Allora Bella schermata Cliccando qui Ok Va avanti Va bene Abbiamo i passi Ossigenazione del sangue A quanto pare L'hanno mandato su Amazon Ma non è stato risattato Come vedete Posso fare un sacco di cose Intanto l'altro si è spento Perché è morto Beh Beh Anche questo E poi il display di questo È veramente carino Adesso ve lo metto giù Guardate Ha un proprio Un Un bel display Mi piace Quindi Si Qua fermiamo la registrazione È un unboxing Che era poca roba Ma è diventato grande Mi piace E qui niente ragazzi Noi ci vediamo domani Se tutto va bene Con un nuovo video E dovrebbe essere un tour Poi di che cosa Ve lo spiegherò Perché ho sistemato un po' di roba E vi voglio fare un bel giretto Vabbè Ci vediamo domani Con un nuovo video Quindi niente dai Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao